ciao ragazzi sono Bruno Levy siamo qui da PFA Auto della concessionaria Kia di Teramo oggi sono venuto a provare la nuova Kia Sportage cosa dire è un'auto da 7 anni di garanzia è stupenda e vi presento Giacomo Camilletti responsabile commerciale della concessionaria Kia che parlerà anche lui della della Sportage allora Giacomo cosa possiamo dire? Niente io vi volevo solo invitare a venirla a provare perché parlarne è relativo invece provarla può significare qualcosa è una vettura che dà emozioni quindi va provata vi aspettiamo qui da PFA Auto a Teramo per farvela provare troverete anche me oltre che lui a farvela provare